Sono passati 50 anni da quando l'uomo è arrivato sulla Luna e direi che dalla missione Apollo si è capito che la Terra vista da lontano è un pianeta molto piccolo e che quindi va protetto. Questo ha dato l'impulso a tantissime ricerche che hanno portato allo sviluppo dei satelliti che oggi osservano la Terra stando abbastanza vicini ad essa. Lo spazio è un ambiente speciale e proprio sfruttando la peculiarità dell'ambiente si riesce a osservare la Terra dall'alto e fare quelle mappature globali che ci portano a capire cosa sta succedendo sulla Terra. Per oggi si parla tanto di cambiamento climatico, gli satelliti sono uno degli strumenti più importanti per capire il cambiamento climatico. C'è un altro aspetto che è legato invece all'osservazione dei pianeti lontani, quindi l'osservazione del sistema solare e dell'universo che ci porta a conoscere meglio come si è formato il sistema solare, quali sono i processi evolutivi e anche questo può aiutare a comprendere quella che può essere l'evoluzione che subirà la Terra non tanto nei prossimi anni ma nei prossimi secoli e millenni. Diciamo che l'utilità scientifica è sicuramente in dubbia, c'è un aspetto che forse non tutti considerano che è la convenienza economica nello sviluppo delle attività spaziali. La NASA ha fatto uno studio da cui emerge che per ogni dollaro investito nella missione, nel progetto Apollo l'economia americana ne ha beneficiato per un valore complessivo di 3 dollari, quindi è sicuramente un buon investimento. Studi simili oramai sono stati fatti anche in Europa e in Europa ogni nazione ha una sua caratteristica economica per cui il ritorno economico varia tra il 40 e il 300%. Questo deriva da tre fattori sostanzialmente. Il primo è il fatto che si investe nello sviluppo tecnologico e quindi si crea immediatamente lavoro qualificato. Il secondo aspetto sono le ricadute indirette nello sviluppo di strumenti che usiamo quotidianamente nelle nostre case o di sistemi e applicazioni. E poi c'è il terzo aspetto che è il fatto che ovviamente avendo a che fare con manodopera molto qualificata, la manodopera qualificata guadagna soldi e poi li spende e quindi l'economia in senso lato ne beneficia. Gli esempi poi delle ricadute non direttamente prevedibili sono tanti e a volte anche curiosi, ma basti pensare al fatto che dovendo sostenere la permanenza dell'uomo nello spazio si è dovuto investire tanto in tecnologie, ad esempio per il riciclo delle acque, il riciclo dei fluidi e tutte queste tecnologie oggi possono essere sfruttate sulla Terra in tutti quei posti in cui ad esempio c'è carenza di acqua. È un esempio che ci fa capire come una volta che la ricerca è stata fatta e gli strumenti sono stati sviluppati, l'ingegno umano è capace di riadattarli per un miglioramento delle condizioni di vita sulla Terra. È importante per concludere investire nelle missioni spaziali perché visto quello che la missione Apollo ci ha portato negli ultimi 50 anni come ritorno tecnologico e di conoscenza, se riusciamo a investire a portare l'uomo su Marte questa volta, sperabilmente avremo un ritorno che ci garantirà un progresso almeno per i prossimi cent'anni.